Ciao a tutti da Santa Torre del blog, del web, della tv, di tutto, grandissima sorpresa il grandissimo che dico Giuseppe Cutrineo, poi il grandissimo ma che dico Massimo Marino e grande Michi Giussino Brutto, allora un saluto a tutti i fans su YouTube, Facebook e un saluto a tutta la fan page della CHU, che potete trovare qui a Ossia e a tutti i fans del Vive Roma e del Michi Giussino.it, seguitelo sul sito una parola a Massimo cacao, meravigliau grande, vai bella frateca a Ossia, churascaria meravigliau via dalla stazione vecchia 8, bella frateca ciao, bella frateca ciao 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 ciao